Non capisci niente, sempre la solita, guarda, guarda dove ti ho portato, sono passati anni e anni, guarda la meraviglia, le mie magie funzionano sempre. E ora in che anno siamo? Nel 2017. E ma qua tutte queste luci, ma dove ci troviamo? Ci troviamo a San Giorgio Morgetto. Ma sempre con queste cose tu, e adesso io non mi diverto più, come facciamo? Non ti preoccupare, le conosci le mie magie, farò ritornare tutti alla nostra epoca e ci divertiremo. E quando? Alla festa medievale, l'11 e il 12 agosto, sei pronta? Sì, andiamo! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS